Campionato italiano online 2022-2023, dodicesimo turno, gioco con Andrea De Zandonati. Inizia, 4-1, colpisco, doppio 1, buona risposta ma non colpisce. 5-1, direi questa, perfetto, colpisco e splitto, haia doppio 3, direi casa 10-8-5, sono in leggero svantaggio in corsa, 6-2, posso colpire entrambe le pedine, oppure fare casa 9 e provare a uscire, direi che il double hit mi piace, aia, tira l'1, accidenti, 3-6, col 6 usciamo da qui, non mi colpisce per fortuna, 6-4, direi che non ci sono molte, potrei fare casa 2, Sì, casa 2, non mi dispiace, aia, mi colpisce, devo sperare di ancorarmi, no, danzo, questo è un double, è un double forte, e questo è anche un drop, troppi tiri che fanno casa 4, pensato quasi un minuto, aia, doppio 3 per lui, doppio 5, direi 1-2, e facciamo casa 3, allora, 6-2, qui devo colpire, no, doppio 2, doppio 1, e direi che devo fare casa 5, anche se sono indietro in corsa, 6-4, scappa subito, maledizione, però 6-4, ottima risposta, adesso ho un leggero vantaggio, 5-2, devo venire avanti, no, sono troppo sotto attacco, cerco di creare, costruire, 3-2, non è un gran tiro, direi 3-2, aia, qui è un prime da 5, devo tirare un 1, niente 1, brutta, brutta storia, devo giocare questa, questo potrebbe essere un double, direi però che è un take, ho 4 pip di vantaggio, e anche lui non ha una, buga agevole con lo straggler, doppio 4 per lui, direi che fa casa 2, o forse è meglio andare sul 5, 5-4, direi che devo fare casa 4, qui servirebbe un 2-6, sarebbe eccezionale, no, 6-4, e 6-4 non ho alternative, 5-3 non è un gran tiro per lui, 2-5-2-6, 2-5-2-6, qui direi che devo colpire, questo è un double, 2-5-2, non ho ancora no, 5-4, chiudo casa, adesso qui è un double potrebbe essere too good però non è per niente scontato che riesca a tirare il 2 comunque per me è un drop sicuro 1 a 1 ho pensato un minuto e mezzo aia doppio 4 questa non mi piace 5 e 6 devo scappare spero che non ti ride doppio 5 accidenti ma avrei colpito sull'1 6 e 5 qui devo scappare ancora e sperare che non tiri un 2 sono molto indietro in corsa allora 6 e 1 e devo fare casa non ho mosse safe non colpisce per fortuna sloterei casa 5 al suo posto doppio 1 ottimo questa la giochiamo safe adesso sto meglio però è presto per cubare perché perché sono in ritardo in corsa adesso 6 e 4 6 e questo il 4 posso colpire oppure giocare questa io gioco questa sperando che non mi colpisca mi colpisce maledizione 1 e 2 qui devo ricolpire doppio 3 switcha adesso devo rientrare subito no danzo e questo è un double e direi che è un drop lui ha buoni gli 1 i 5 no gli 1 e i 6 si drop ho pensato 2 minuti e 2 e 1 per lui 5 e 4 ok no direi questa maglia fa casa 5 anche lui 4 e 1 dobbiamo splittare ma penserei seriamente a colpire due pedine serve un 1 niente 1 maledizione no colpisce nell'outfield avrei preferito colpire nell'outfield un 4 arriva il 4 no colpisce accidenti il 4 mi serve ancora niente ok ok due pedine sul bar sono tante no questo è un drop 3-1 per lui 2 minuti e mezzo qui l'eterno dubbio se giocare dal mid o dal 4-2 non è bella ho duplicato il 4 però colpisce e fa l'ancora 3-6 colpisco mi colpisce un indietro in corsa di 15 pip vabbè qui devo giocare questa doppio 3 va casa 5 e casa 10 è molto in vantaggio in corsa ha un ancora ottima 5-3 non è un gran tiro ma farei casa 5 senza esitazioni sinceramente non mi piace come sta giocando allora qui posso coprire le due pedine o giocare più aggressivamente colpire sul 5 e fare casa 3 eh sì devo colpire 5-4 brutta posizione sono indietro in corsa di 6 pip però vabbè ho l'ancora una buona ancora ma mi sembra anticipato il cubo 4-2 posso direi sì che devo giocare questa non sarà banalissimo per lui portare avanti le pedine dal mio bar point e qui 3-1 dobbiamo giocare questa 6-4 obbligata 6-4 anche per lui qui mi serve un 6 niente 6 maledizione qui un 2 o un 5-4 no doppio 3 doppio 1 fa casa 9 va sul 6 e qui devo scappare poche storie devo sperare che non faccia casa in testa invece fa casa in testa prime da 6 qui qui devo sperare di rientrare subito per evitare il gammon 1 direi 2 3 4 6 e 1 4-3 non è il tiro migliore per lui per lui qui un doppio 5 eccolo qui la partita è tutta da giocare doppio 6 questo direi che è un redouble ok 3 pari ho pensato 3 minuti e 15 mi colpisce mi colpisce però ha parecchi blotti in giro no doppio 6 serve un 4 questo potrebbe essere un double direi che però è un take serve assolutamente il 5 niente 5 maledizione 5 4 e direi che colpisco mi ricolpisce subito qui qui venire avanti è molto rischioso devo giocare questa 4-1 a casa 5 probabilmente avrei dovuto colpire l'uso sull'1 una casa 1 sono in ritardo in corsa di 50 pip servirebbe un 6 6-4 6-5 fa casa 9 5-2 non è un gran tiro 6-2 può fare il prime da 5 4-1 sì sarebbe importante giocare 24-23 ma devo privilegiare questa scappa subito mi serve un 1 magari il doppio 1 sarebbe l'ideale rischiosa qui il gammon è molto probabile devo tirare subito un 1 è un 6 possibilmente no doppio 6 sarebbe servito dopo l'1 diciamo che ha un 40% circa di gammon però scopre adesso il 6 sarebbe importante niente 6 maledizione niente non rientro il gammon è molto probabile però un 3 niente qui devo scappare qui devo scappare 3-6 pari devo ancora giocare questa niente adesso devo scappare no doppio 1 maledizione speriamo di evitare il baggammon no baggammon 9-3 forse sarei dovuto scappare anche con le 6 pedine vabbè non tutto è perduto devo continuare a giocare sono stato abbastanza sfortunato sinora colpisco però baggammon la fortuna può sempre girare i 5 e 3 niente continua a martellare sono parecchio indietro in corsa una cattiva struttura 2-1 direi che avanziamo l'ancora per fortuna il 5 e 3 adesso non può far casa 23 pip di vantaggio per lui doppio 3 non è male direi che colpisco entrambe le pedine presto per cubare ora 6-4 devo fare casa in testa o fare questa casa direi questa qui potrebbe colpire ma mette a rischio di gammon però è ancora presto per cubare doppio 5 è ottimo direi 2-3 e 4 però è che non tiri un 5 no doppio 5 5-4 però la corsa è abbastanza pari lui ha 4 pedine indietro contro 2 mie ha fatto casa 1 che non è un vantaggio serve un 6 niente 3-1 3-1 direi che colpisco 6-2 non è un bel tiro 2-1 facciamo il mid qui corsa pari 5-3 non è un granché perché non posso venire avanti devo giocare questa porta avanti una pedina sul mid 5-4 e qui devo venire avanti 5-4 potrebbe colpire e fare casa 2 doppio 6 1-2 sembra un ottimo joker questo direi che è un double molto forte probabilmente un drop 9-4 9-4 giochiamo questa non mi piace tantissimo potrei giocare questa no giochiamo questa 4-3 si ancora maledizione 6-2 si veniamo avanti sperare che non tiri un 4 doppio 5 adesso avanti di 20 questo è un double serve un 4-5-6-3 doppio 2 questo è un double forte secondo me e questo è un drop perché non va bene anche se sono molto un ritardo nello score ho pensato 4 minuti e 40 quindi non tanto devo giocare aggressivamente lo score lo impone 4-3 4-3 4-3 colpisce facciamo il golden giusto in tempo per evitare che faccia lui casa 5 6-3 porta avanti un runner sono indietro in corsa di 21 direi 6-3 non ho altro 2-5 scappa devo colpire assolutamente presto per cubare e direi questa presto per cubare assolutamente sono in ritardo in corsa 4-1 devo giocare questa o colpire no colpire non non è interessante 6-2 scappa maledizione serve un 7 però 6-1 non è un buon 7 5-1 può giocare safe doppio 2 allora ha 8 di vantaggio ciao 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 veniamo avanti e giochiamo questa 6 5 leggero vantaggio in corsa per me aia scombera il mid servirebbe un doppio alto 6 1 ho uno shot però cubare non esiste mi serve assolutamente il 2 non tiro il 2 direi che a questo punto devo scappare la corsa è abbastanza equilibrata leggero vantaggio per lui un tiro alto 6 e 3 direi 4 e 1 ha un buon vantaggio ha già tirato fuori 3 pedine 5 pedine fuori 3 2 qui potrebbe anche cubare ha tirato un doppio 6 questo è un drop nettissimo 2 away 9 away 5 e 1 non è un gran tiro no vabbè mi colpisce 4 3 devo fare l'ancora ok però continuiamo a combattere il buon giocatore deve creare problemi all'avversario anche in queste situazioni 4 8 10 12 pedine potrei tentare il blitz o scappare con le due come devo scappare perché ah sono ancora in ritardo in corsa accidenti avrei dovuto valutare meglio lui deve scappare a me serve un 6 6 3 maledizione non scappo qui devo colpire ovviamente mi ricolpisce colpisce anche sul 2 serve assolutamente un 2 niente doppio 6 non tiro il 2 non tiro il 2 qui copre e prova a scappare serve il 6 niente 6 niente 6 e lo facciamo a casa rischiosissima però doppio 5 forse sarei dovuto uscire con quella pedina deve colpire anche sull'1 non c'è dubbio perché non colpire sull'1 direi di sì mi serve un doppio 1 niente e questo è anche gammon quindi si chiude il match chiude tavola fine la fortuna che ho avuto nel match con Florin avanti ieri si è girata completamente bene difficilissimo che si scopra e le possibilità di gammon sono elevatissime niente danzo, non si scopre continuo a danzare direi che il match è finito le chance di evitare il gammon sono nulle servirebbero diversi doppi 6 adesso neanche il doppio 6 mi salva l'ho anche giocato male grazie 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 grazie